La prossima sarà una settimana piuttosto interessante da un punto di vista politico con la riunione della segreteria del PD in cui emergeranno tutte le problematiche sollevate all'interno da parte della minoranza a proposito del cosiddetto job act. Si stanno sentendo un sacco di note veramente stonate e le più stonate sono quelle di tanti i quali parlano, straparlano, magari strascrivono, leggasi certe cose che sono state scritte sul Corriere della Sera da parte dell'attuale direttore, note stonate che al di là del contenuto credo che abbiano una buona dose di ricerca di protagonismo. Io sono di quelli che lascerei un attimo di tempo fare, eviterei di fare le imboscate quando un Presidente del Consiglio è in viaggio all'estero, anche questa è una caratteristica della politica italiana che si ripete puntualmente. Io lascerei da parte l'apparire e privilegierei l'essere e per fare le cose in Italia, per portarle a compimento ci vuole non soltanto in Italia un po' di tempo, non si può dire cinque minuti dopo che si sono annunciate delle riforme, beh non le hai ancora realizzate, aspettiamo, aspettiamo e poi giudichiamo. Grazie a tutti.